Ad Olevano sul Tusciano i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto due minori di 16 e 17 anni in esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare del collocamento in comunità in quanto ritenuti responsabili di concorso in tentato furto aggravato. Il provvedimento restrittivo scaturisce dagli accertamenti effettuati dai militari i quali hanno raccolto inconfutabili elementi di colpevolezza a carico dei predetti per aver tentato. L'11 aprile scorso di impossessarsi di alcuni fini di rame da un'abitazione popolare in attesa di assegnazione situata in via Valle di Olevano sul Tusciano. Quel giorno i due giovanissimi non riuscirono a portare a termine del furto per il pronto intervento dei carabinieri che a seguito della segnalazione di alcuni vicini giunta alla compagnia di Battipaglia agli ordini del Maggiore Fasolino si portarono sul posto sorprendendo i minori nascosti in un sottotetto. La successiva ispezione dei luoghi consentì di rinvenire un telefono cellulare successivamente risultato essere in loro uso all'interno dell'appartamento del quale i due si erano allontanati poco prima dell'arrivo dei militari dell'arma. Espletate le forme di diritto i due giovani sono stati accompagnati presso due distinte comunità alloggio indicati dal Centro per la Giustizia e Minorire per la Campania segnatamente una in provincia di Salerno l'altra in quella di Napoli.